con i cv a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di into the 4k dedicato alle uscite 4k del mese di novembre 2023 ma dato che questo mese le uscite sono veramente tantissime io direi di partire immediatamente cominciamo con il giorno 8 con i ragazzi della 56 esima strada in versione 4k e sarà presentata solo la versione director's cut di questo film all'interno probabilmente ragazzi per qualche uscita dirò la parola probabilmente perché ad oggi data di registrazione di questo video di questo audio domenica 29 ottobre ho aspettato fino alla fine quasi del mese di ottobre per registrare questo audio io di qualche uscita non ho ancora informazioni quindi chiedo venia comunque all'interno molto probabilmente dolby vision master 4k ovviamente del nuovo restauro dts hd master audio 5.1 per l'inglese e l'italiano se come il vecchio blu ray della universal dts ora master audio 2.0 come extra ragazzi non so niente se ci sono i nuovi della collector's edition estera se ci sono i vecchi dell'universal non so niente quindi direi che già il video è partito alla grande con le informazioni sempre giorno 8 con come eravamo immaginatevi come eravamo noi in edizione cinquantesimo anniversario e sarà presente solo il disco 4k master 4k da negativo originale sia della theatrical che della nuova extended edition con quasi 5 minuti in più che reintegra due scene importanti all'interno del film dolby vision dts hd master audio 5.1 per l'inglese e molto probabilmente dolby digital 5.1 italiano come il vecchio 1080p come extra all'interno del 4k il vecchio commento e il vecchio making of di oltre un'ora sempre giorno 8 con boys in the hood strade violente un 4k che era già uscito all'estero contenente la lingua italiana ma ora arriva anche acquistabile in italia con master 4k hdr 10 dolby atmos per la traccia inglese dolby digital 5.1 per la traccia italiana all'interno del 4k un tributo regista theatrical press conference un dietro le quinte originale e il trailer all'interno del 1080p che lo stesso vecchio stessi extra commento featurette scene eliminate e video musicali sempre stesso giorno per glory uomini di gloria e sarà un ristampa ragazzi quindi all'interno mo cominciamo stessi dischi stesso giorno anche per kingslave final fantasy 15 che da noi era uscito solo in 1080p ma era già uscito con l'italiano all'estero master dicono 4k hdr 10 dts hd master audio 5.1 per la traccia inglese e dolby digital 5.1 per la traccia italiana nel 1080p e dts hd master audio grazie sony all'interno del 1080p gli stessi extra vecchi saltiamo il giorno 9 con shark 2 in versione anche steelbook e anche in versione primo film più secondo film per il primo film l'ho già detto in passato le caratteristiche tecniche quindi andatevele a rivedere per il 2 master 4k dolby vision dolby atmos in inglese e il rullo di tamburi warner anche in italiano all'interno come extra solo due poverissime featurette peccato ma sempre stesso giorno anche per blue berole in versione amarei e anche in due stil differenti master 4k dolby vision anche qui e dolby atmos per la traccia inglese e anche grazie warner per l'italiano all'interno come extra documentario diviso in quattro parti una featurette e due speciali sul blue beetle quel robo lì io non ho ancora visto il quindi il film non so che cos'è questo blue beetle stesso giorno anche per mission impossible dead reckoning parte 1 la 2 probabilmente uscirà nel 2025 uscirà in versione normale e anche due steelbook di cui una esclusiva amazon come per esempio per l'ultimo transformers master 4k dolby vision dolby atmos per l'inglese e dolby atmos per la traccia ita ci avete creduto e voi pensate che la baramante di dal dolby atmos in italiano no rimane al cinema e la muore dolby digital italiano 5.1 per l'ho già detto l'italiano come extra commento del regista christopher mccurry e del montatore edy hamilton uno speciale sulla colonna sonora e all'interno del blu ray bonus speciale su abu dhabi roma venezia poi uno speciale sulla caduta libera di tom cruise e lo speed flying di tom cruise e uno speciale sulla scena del treno stesso giorno anche per schindler's list in versione steelbook e anche steelbook essential collection l'essential collection conterrà un booklet una replica della pellicola foto dal set e un certificato di autenticità così se arriva qualcuno a casa vi fa domande o bello mio io c'ho il certificato di autenticità non mi rompere i coglioni io ce l'ho tu ce l'hai no se un poveraccio allora all'interno stessi dischi stesso giorno anche per american graffiti il film tra i più belli di quelli che ha fatto di george lucas arriva in versione steelbook con un master 4k hdr 10 dts hd master audio 5.1 per la traccia inglese e italiano in dts 2.0 mono all'interno gli stessi extra del 1080p vecchio l'ho già detto stesso giorno dato che ci avviciniamo al natale per violent night una notte violenta e silenziosa in versione steelbook l'avete già comprato in 1080p io non l'avevo comprato e adesso esce in 4k quindi ve lo ricomprate son furbie master 4k hdr 10 dolby atmos per la traccia inglese e italiano in dts hd hd non master audio 7.1 all'interno come extra tre featurette scene eliminate e un commento per circa 35 minuti di durata stesso giorno anche per e queste le faccio le recensioni nel mese di novembre questo il cofanetto che compro dei one assolutamente so che a tanti non interessa ma me interessa alfred hitchcock collection volume 3 all'interno solo i dischi 4k per nodo la gola l'uomo che sapeva troppo non io il sipario strappato topaz e frenzy tutti master 4k hdr 10 dts hd master audio 2.0 mono per l'inglese e dts 2.0 mono per l'italiano all'interno gli stessi extra presenti nei vecchi 1080p esattamente come gli altri due volumi questi hitchcock sono troppo belli in 4k sono delle bellissime sorprese e voglio fare le review ma stesso giorno anche per io talking to me scarface in edizione quarantesimo anniversario in versione stelboc datemi la ie io ci fosse la ie io dentro sarebbe meraviglioso e all'interno mi preparo stessi dischi stesso giorno anche per anger games collection con gli stessi dischi che uscirà in versione poveraccio amarei collection quindi boh che cosa dire di più stesso giorno anche per bade retro l'esorcista in versione steelbook ultimate collector edition all'interno slip case rigido steelbook poster doppio lato c'è doppio lato chissà quando faranno il triplo lato booklet di 40 pagine e 6 ripeto 6 cards all'interno stessi dischi lo so che amazon dalla foto solo della steelbook però l'ultimate collector edition e il cofanettino come ha sempre fatto la warner quindi è questa la foto è questa dai ragazzi saltiamo al giorno 15 poiché hanno rinviato al 15 io non lo sapevo scream 3 steelbook l'hanno spostata ad oggi se volete le specifiche tecniche riguardatevi il mese passato perché è rimasto lì stesso giorno anche per la casa dei fantasmi che io ho visto su disney plus non posso comprare tutti i film del mese ragazzi magari quando scende un pelino però ve lo consiglio non mi è assolutamente spiaciuto master 4k hdr 10 dolby vision in streaming atmos inglese e italiano in dolby digital plus 7.1 all'interno due ficiurette errori sul set e scene eliminate per circa 35 minuti 35 minuti di durata stesso giorno anche l'avete già comprato in 1080p e mo ve lo ricomprate il settimo sigillo 4k master 4k dolby vision presumo italiano e inglese in dts hd 2.0 se come il blu ray vecchio all'interno sono sicuro al 99 per cento probabilmente stessi extra del 1080p e stesso giorno anche ragazzi per un pugno di dollari versione 4k master 4k quello lì è sicuro sdr non sarà hdr extra non lo so ragazzi c'è quasi compra scatola chiusa è una cosa indecente nessuno neanche gli store sanno che cosa c'è dentro e come extra bo come italiano pcm di tsh di master audio sarà un nuovo restauro dell'audio ma anche in minchia lo sanno non si sapo bellissimo continuiamo così stesso giorno anche per sos fantasmi e la plyon ci dice tutte le caratteristiche tecniche all'interno del loro sito sia per le loro uscite che quelle paramount grazie così che si fa master 4k dolby vision dts hd master audio 5.1 per la traccia inglese italiano in dolby digital 2.0 come extra commento del regista richard donner natale da ricordare un ebnezzer moderno dare vita ai fantasmi lo stile del film sul set con bill murray e clip dello show west con bill murray stesso giorno anche per voglia di tenerezza in master 4k dolby vision dts hd master audio 5.1 e italiano dolby digital 2.0 che volete di più come extra commento del regista james l brooks della coproduttrice penny finkelman e della direttrice di produzione polyplett focus sul regista james brooks e trailer cinematografico stesso giorno anche per star wars raccolta 4k io non so se sarà un cofanetto se ve li mettono una busta della coppa all'interno non lo so comunque all'interno ragazzi nove film stessi dischi quindi in quello della nuova trilogia il secondo non ci sarà il dolby vision che io tengo stretto gelosamente quel disco stesso giorno anche per la notte dei morti viventi 4k versione midnight factory purtroppo non so dirvi se avrà l'hdr perché ad oggi hanno rifatto il sito non ci sono ancora scritte le specifiche tecniche non lo so 4k ovviamente 4k hdr non si sa traccia italiana inglese non lo so comunque so i contenuti extra partiamo e commento audio del regista george e romero e del cast commento audio dei produttori russell streiner e vincent suvinsky e del cast introduzione di rob streiner a night of anubis e poi c'è anche proprio a night of anubis la copia lavoro col montaggio alternativo poi light in the darkness l'influenza della morte dei morti viventi l'introduzione con gary streiner scene inedite poi un'intervista john russo un'intervista jim seronella sulla colonna sonora limitation into virtues un video 6 di tony zoo e taylor ramos e il trailer esclusiva sito fan factory e ad oggi non si può ancora prenotare dal sito fan factory mettete a posto il sito per favore giorno 23 per the nun numero 2 il capolavoro dei capolavori 4k in versione anche steelbook e anche in versione the nun 1 più 2 e l'uno era già uscito all'estero con l'audio italiano quindi è lo stesso disco ragazzi per il primo dato che è una prima volta che esce in italia master 2k hdr 10 atmos inglese italiano dolby digital 5.1 3 featurette e scene eliminate come extra per il 2 master 4k atmos inglese l'italiano dolby digital 5.1 presumo non si sa ancora se già dts hd master audio 5.1 andrebbe già benino atmos punto interrogativo mi sembra che forse al cinema era solo 7.1 massimo ma vedremo quando esce come extra due featurette per un totale di ben 15 minuti mamma mia stesso giorno anche per due lenticolar steelbook plus edition edizione da collezione con la steelbook la custodia lenticolare la mappa se vi perdete sei cartoline da collezione il poster fronte retro a tre lati sto scherzando master 4k hdr 10 dolby atmos per la traccia inglese e italiano dts 5.1 sentite come sto salivando tantissimo come extra aggiuntivo in hd il film in versione tv quattro terzi e poi gli stessi extra del vecchio 1080p stesso giorno anche per scappato eriso ford il fuggitivo versione steelbook master 4k hdr 10 dolby atmos per l'inglese italiano dolby digital 5.1 all'interno stessi extra del blu ray vecchio ma manca il pilot della serie tv del 2000 mi sembra stesso giorno anche per la valle dell'eden così abbiamo concluso con i film di james dean in 4k master 4k hdr 10 dolby atmos per la traccia inglese italiano dolby digital 3.0 vedete a tre lati come il poster nel 4k un commento e lo stesso commento insieme agli stessi extra del vecchio 1080p nel vecchio 1080p e sono oltre due ore di durata stesso giorno anche per 300 versione poveraccio amarei stessi dischi stesso giorno anche per il miglio verde poveracci edition amarei stessi dischi devo fare una maglietta con scritto stessi dischi sarebbe figo stesso giorno anche per quarto potere questo lo aspettavate in versione poveracci con gli stessi dischi in versione amarei e chiudiamo il mese ce l'ho fatta in un quarto d'ora dire tutto la dc extended universe 10 films collection 10 film collection con all'interno 12 4k perché ci sono due versioni e di justice league comunque all'interno man of steel batman contro superman wonder woman justice league aquaman shazam wonder woman 1984 poi la zack snyder's justice league che su due dischi black adam shazam numero 2 e the flash e all'interno stessi dischi e chiudiamo con le uscite di novembre che bello ho fatto un bell'audio devo fare pochi tagli meno male deo grazia e noi ci rivediamo con le uscite ovviamente con altri video seguite il canale iscrivetevi al canale youtube ragazzi importantissimo e anche al canale telegram mi raccomando con l'importantissimo siamo più di 700 adesso che volete sapere le news le offerte che non c'è mai una sega su amazon e i pre order importantissimi quindi collegatevi in tutti i social anche toc e anche instagram ovviamente fatemi salire anche lì per favore ragazzi ragazzi per favore sono tutti e due comunque chiudiamo l'audio chiudiamo il video noi ci rivediamo in un prossimo episodio di into the 4k ho finito la saliva c'è solo sandman nella mia bocca e suona veramente veramente male o la che l'ho detto oh mio dio giocate a spider man 2 per la playstation e mi raccomando che è una figata assurda c'è un dolby atmos che bellissimo e ho preso anche alan wake 2 sì lo so sono un debole comunque ci rivediamo in un prossimo episodio di into the 4k sayonara a tutti e bye bye